Ciao a tutti ragazzi, mi sono svegliato e sono venuto in allevamento nella stanza e guardate cosa ho trovato dentro a questo terraio Tadam! Sono nate 3 delle 5 Samia Guardate come sono belle Adesso ne prendiamo una Oh, andate Guardate le dimensioni Guardate come sono belle Adesso speriamo che ci sono maschi e femmine così mi faranno all'interno di questo terraio le uova Nasceranno i bruchi Rimettiamo la appiccicata Ok, per ora non è che hanno fatto molto movimento diciamo Però Ecco fatto ragazzi Queste sono le tre falene Vi faccio vedere anche queste Davvero una bella soddisfazione ragazzi prendere le uova e poi dopo avere le falene Questi sono i bozzoli Loro bozzoli e ancora altre due devono uscire quindi le aspettiamo Siccome i ragazzi loro non hanno apparato boccale non mangiano quindi devono soltanto accoppiarsi di fare le uova e poi moriranno Sono davvero davvero belle E penso che se avrò fortuna e se si riprodurranno porterò a fiano i bruchi o le uova penso i bruchi anche di grosse dimensioni Perché fate conto che adesso siamo ad agosto fino agosto o settembre ottobre in tre mesi potrò avere sia i bozzoli che i bruchi già di grosse dimensioni E niente ragazzi spero che questo micro video vi sia piaciuto spero che siete contenti dell'arrivo diciamo Adesso la prossima cosa sarà riuscire a riprodurli Purtroppo non ci posso fare niente devo soltanto sperare che di quelle cinque c'erano maschi e femmine Devo sperare che si accoppiano e mi faranno delle uova bianche molto molto piccole Niente ragazzi adesso chiudiamo il fauna box E niente ciao a tutti ragazzi